Come avete visto oggi, sugli spazi, anche prima della partita, c'erano degli striscioni che ricordavano Catta. Catta è Marco Cattani, è un mio compaesano, ma soprattutto è stato un grandissimo tifoso della Reggiana, di quei tifosi tosti, tifosi che hanno seguito la squadra sempre in qualunque situazione, da parte del gruppo Vandelli, il gruppo Vandelli era molto legato a lui, lo hanno dimostrato in questi giorni anche in cui lui soffriva e poi purtroppo ieri non ce l'ha fatto. Sono qua per dire che d'accordo con il Presidente, con la società, noi dedichiamo a lui questa vittoria, quindi dedichiamo la vittoria a questo grande tifoso della Reggiana che purtroppo ci ha lasciato. Ecco, io ci tenevo a dirlo, l'ho detto ai vostri colleghi della TV, Marcello mi ha fatto venire per dirlo anche a voi e io lo ricordo sempre volentieri, colgo l'occasione e termino per fare le condoglianze anche alla famiglia. Marco Cattani aveva 51 anni.